Da via Cristoforo Colombo, dove è stato travolto e ucciso il giovane Francesco Valdiserri a Lungotevere a via Pianuova e Corso Francia, arriva una autovelox per scoraggiare la guida ad alta velocità, stretta sui comportamenti scorretti al volante per tentare di frenare la piaga delle vittime della strada. La decisione è stata assunta nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, preseduto dal prefetto di Roma Bruno Frattasi, cui ha partecipato anche il sindaco Roberto Gualtieri, che si è detto soddisfatto per le misure adottate. Verranno rafforzati i pattugliamenti, la polizia locale sarà dotata anche di precursori, ovvero piccoli radar intelligenti, capaci di riconoscere se ci si mette alla guida sotto l'effetto di alcol e droga. In caso di test positivo al primo screening si effettua il controllo più efficace con etilometri e narcotest da effettuare sul posto. Una stretta in chiave sicurezza e prevenzione che vede insieme vigili urbani, polizia, carabinieri e guardia di finanza. Più controlli anche nelle zone della Movida, a partire da Trastevere, guardia alta per impedire la vendita di alcol ai minori.